Buongiorno a tutti, sono Sara con Serge Lexus di Unica Bonera di Brescia e in questo video scopriremo l'esclusiva ES. Il profilo in stile coupé e le sue forme armoniose conferiscono dinamicità all'auto. La caratteristica griglia anteriore, il cofano basso e di particolari fari full LED permettono alla berlina premium di Lexus di distinguersi dalla concorrenza, con uno stile ancora più audace. Il pacchetto si completa con cerchi distintivi che rendono il design di Lexus ES armonia allo stato puro. Lexus ES arriva nella motorizzazione 300H, ottenuta unendo il motore a benzina da 2,5 litri al motore elettrico, totalizzando 218 CV. Il modulo ibrido Lexus provvede alla ricarica delle batterie durante le fasi di guida, attraverso il sistema di recupero dell'energia, così da poter abbattere i consumi. Gli interni incarnano appieno lo spirito dell'emotenashi, filosofia giapponese basata sull'anticipare le necessità dell'altra persona, ancora prima che si manifestino. Al suo interno, Lexus ES è più tecnologica che mai. Il display centrale è orientato verso il guidatore per un maggior senso di controllo. I comandi sono stati riprogettati per favorire la fluidità di utilizzo. La lavorazione artigianale e l'attenzione ai dettagli conferiscono all'abitacolo un senso speciale di armonia. Restano poi dettagli iconici come l'orologio analogico Lexus. Vieni a scoprire Lexus ES nel nostro salone in via breve 4 a Brescia.